buon pomeriggio agli amici del 295 di tv a vicenza news ancora pochi giorni su questo canale e vi ricordo poi che tensione evolutiva con tutti i nostri ospiti emigrerà nel quel del canale 14 telechiara al mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 e poi al venerdì sempre dalle 17 alle 18 col dottor Sergio Labella e come sapete questo programma qui si distingue perché abbiamo della bella musica ma anche degli ospiti molto molto interessanti anzi se volete intervenire in diretta oggi pomeriggio li vedete già inquadrati al mio fianco pensate un po oggi parleremo della carta del coraggio e parleremo anche se ci vuole coraggio in questa nostra epoca oppure no qui vicino a me abbiamo subito i nostri graditi ospiti che si presentano adesso chi sei io sono barbara battilana e sono responsabile regionale della gesci veneto a barbara responsabile della gesci veneto sentite che personaggi che abbiamo oggi qui qui da noi in diretta prego io sono mauro montagnere sono il responsabile regionale della gesci veneto mi piace il responsabile regionale della gesci veneto bene partiamo di gran carriera subito un po di musica e poi entriamo nel merito con l'argomento di oggi se ci vuole coraggio oppure no nella nostra epoca a dopo rieccoci qui attenzione evolutiva 3.0 stanno già arrivando delle domande intanto cosa vuol dire a gesci prego gesci è associazione guide scout cattolici italiani ok quindi guide scout cattolici italiani e facciamo finta che ci siano delle persone a casa che non sanno che cos'è lo scoutismo cosa vuol dire scout essere scout vuol dire quelli che passano per strada con le con vestiti di un certo colore o cosa vuol dire essere scout ciò che magari io faccio domande un po così ma no no ma è giusto così l'essere scout è un po l'essere esploratore quindi proprio riguarda quelle persone che vanno in avanscoperta e nel nostro territorio e andare in avanscoperta è proprio quello di passare vivere la città il territorio dove siamo inseriti alcuni ogni associazione scout diciamo è proprio caratterizzata dal colore della propria della propria uniforme quindi ad esempio la gesci che è l'associazione più grande siamo di riferimento più grande in italia si do con c'è ispirazione anche cattolica ispirazione cattolica con 177 mila associati a un uniforme azzurra per cui tutti gli azzurrini che vedete in giro di solito sono a gesci ci sono i lupetti anche lupetti di solito ecco il termine scout si riferisce proprio alla fascia alla fascia d'età dai dai 12 ai 16 anni no poi di per sé ha assunto anche una connotazione generica per cui tutti ci sentiamo scout infatti da mauro come sei diventato scout torniamo facciamo un po di flashback come 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 sei entrato in questa esperienza visto adesso insomma sei guarda in famiglia se ne è sempre parlato di scoutismo perché mio papà era scout quando eri in collegio a treviso e me ne ha sempre parlato poi nel nel 83 è stato aperto un gruppo a jeslo e io non vedevo l'ora di correre e di partecipare a questo questo mondo e nell'84 sono entrato come esploratore proprio nel reparto nascente dello jesolo 1 quindi un po come si dice una vocazione familiare si è stata una cosa un po indotta dal papà e sei entrato un po da quella porta lì insomma no se ho ben capito e invece invece il mio è stato un contagio legato alle amicizie un virus esatto nel senso che io sentivo le mie amiche che parlavano che vivevano già questa esperienza nei lupetti e quindi io ho rotto le scatole un po a mia mamma finché sono riuscita a farmi iscrivere agli scout nella nel paese dove dove ero quindi risale alla 88 tu vuoi dire anche da dove sei perché abbiamo anche persone un po da tutto il veneto se volete dire anche da dove siete per cui io sono una vicentina originaria di cornedo vicentino quindi della provincia della provincia e che professione fai adesso io sono insegnante a insegnante un insegnante prego io sono da jesolo veneziana insomma ecco quindi proprio da del i regionali vanno un po dal dal mare alla montagna diciamo che assieme rappresentiamo un po quelle che sono le peculiarità della nostra regione io non faccio l'insegnante sono un responsabile per una dita di sementi e quindi lavoro un agronomo diciamo nell'ambito agricolo e magari a casa si staranno chiedendo perché giovanni ha chiamato oggi in diretta un uomo e una donna secondo secondo voi perché ho chiamato un uomo e una donna in diretta prego a me verrebbe da dire non potevo mica chiamare una persona solo ma perché noi viaggiamo sempre in coppia ci vuoi spiegare un attimo questa peculiarità la nostra associazione è caratterizzata proprio dal momento in cui è stata fondata quindi nel 74 e dalla fusione proprio di un'associazione femminile da un'associazione maschile ha adottato la diarchia che è proprio la diarchia esatto quindi essere in due persone un uomo e una donna a capo quindi a responsabile di ogni livello dell'associazione e di ogni interessante e di ogni gruppo di ragazzi quindi diarchia intendi un uomo e una donna che sono capi assieme quindi portano avanti questo messaggio che volete mandare ai ragazzi ma anche agli adulti perché poi parleremo anche delle varie attività che facciamo che face che fate e proprio con la diarchia cioè tutti e due assieme si 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 esatto proprio la responsabilità educativa viene divisa tra cioè nel senso siamo corresponsabili come capo maschio e come capo femmina molto bella bella sta cosa mauro volevi dire qualcosa si mettono insieme due sensibilità in maniera da avere proprio lo sguardo a 360 gradi e vuol dire anche condividere in ogni momento la responsabilità che che l'impegno nell'educazione ci richiede e questo pensiamo che sia un valore forte molto bello molto anche interessante proprio per questa forma anche di chiamiamola così di democrazia partecipata in cui invece di che ci sia un capo solo che può essere un uomo una donna ci siano due persone che hanno due sensibilità diverse e quindi porto possono fare delle proposte partendo dalla loro sensibilità diversa quest'anno c'è stato un evento molto molto importante e c'è stata appunto la route nazionale se ne è parlato in tutti i telegiornali anche bisogna dirlo anche per fattori politici ma noi non tratteremo sta cosa tratteremo di cose è capitato ma ne parliamo dopo la musica intanto gustatevi un po di musica ci troviamo dopo con questi due signori interessanti a dopo attenzione evolutiva come avete visto dalla dalla schermata stiamo parlando perché poi fuori onda vengono sempre fuori delle cose molto anche personali anche molto interessanti e così si parlava appunto di questa route nazionale intanto cosa vuol dire route route è proprio la strada quindi la strada che i ragazzi più grandi gli scout più grandi quindi quelli che hanno dai 16 ai 20 anni 16 20 anni si esatto compiono come attività predominante del loro essere scout quindi della loro della loro attività della loro attività il percorso culmina proprio voglio dire la loro attività culmina con un campo estivo non ha un campeggio estivo che non è un campeggio fisso come si è soliti magari vedere l'immagine stereotipo si infatti ma è un campo che si muove quindi con proprio il senso molto forte anche della precarietà per cui una sera sono qua poi la mattina dopo riprendo su tutto mi rimetto lo zaino lo zaino contiene tutto quello che mi serve per vivere e affronto un'altra giornata di cammino la sera arriverò in un altro punto che non so sarà quello che che la provvidenza c'è quello che la realtà locale mi offre no e quindi è proprio questo percorso un alternarsi di strada di cammino un po come è la parodia diciamo della vita è proprio quello che ci può capitare insomma nella vita quest'anno appunto c'è stata la route nazionale che come molti a casa sanno ha anche destato un notevole interesse per alcuni aspetti politici ma anche per la vastità insomma anche di questa di questo evento e vuoi Mauro dirci qualcosa rispetto a questo cosa è capitato so che poi insomma abbiamo un po di tempo per sviluppare l'argomento io ti butto là qualche suggestione la route la cosa che si è vista di più è stato sicuramente l'incontro dei 30.000 scout a San Rossore però la route parte da un percorso che i ragazzi hanno fatto da casa ci hanno messo un anno per prepararla magari noi a casa oppure chi era in tv ha visto solo la parte finale no quindi vai 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 prego i ragazzi si sono guardati il proprio territorio e sono chiesti qui nella mia città nel mio paese di che cosa c'è bisogno che cosa noi ragazzi possiamo fare per il nostro territorio in questo tempo si sono interrogati hanno cercato di dare delle risposte poi camminando un po in tutta Italia assieme con i loro coetanei provenienti da altre parti della penisola quindi c'è proprio tutta la penisola insomma in Veneto abbiamo ospitato 5.000 ragazzi di cui un terzo era Veneto e gli altri arrivavano un po da tutta Italia hanno camminato per la nostra regione assieme si sono confrontati su quello che avevano osservato a casa sulle azioni che hanno che hanno che hanno interpreso e penso che questo sia stato il vero senso della della route poi dopo a San Rossore si è una festa incredibile attività senza altro però la route è stato proprio questo camminare in giro per il nostro paese incontrare tanta tanta gente e la curiosità effettivamente di vedere questi ragazzi c'era anche perché questa macchia blu è questa macchia blu questa macchia blu e ragazzi che suonavano la chitarra che facevano rumore perché l'incontro e la loro età porta a questo insomma con molta gioia ecco con molta gioia infatti questo si è respirato anche da chi magari non ha potuto esserci che magari proprio perché per fortuna ci sono i mezzi di comunicazione insomma che hanno anche portato avanti un certo tipo di comunicazione si è respirata proprio questa questa parte finale di festa e anche di festività insomma della chitarra del trovarsi tra ragazzi no chissà quante belle esperienze volete raccontarci qualcosa di anedottico di pratico se so che prego prego c'è un mare di esperienze da raccontare e vissute diciamo in giro per per il veneto ma anche poi la direttamente a san rossore in provincia di pisa e io oltretutto ero la quando li ho visti arrivare ed è stato proprio bello vedere una città di tende che saliva pian piano e quindi è sì perché con le loro tende no esatto che sono arrivati ognuno è arrivato con altro che albergo che e quindi prima c'erano questi queste distese no questi prati verdi e poi pian piano hanno cominciato a campeggiare no con alcune loro tenda ma proprio si è sentita la differenza di prima c'è un ambiente comunque voglio dire no silenzioso e poi tutta questa questa energia che era proprio travolgente perché insomma li vedevi poi per loro è un'esperienza un'esperienza importante anche quella di trovarsi tutti assieme e secondo me proprio a livello anche sociologico infatti trovarsi dei ragazzi adolescenti no tutti assieme che vivono determinati valori che non si vergognano di indossare un uniforme che non che non hanno il problema di di fermarsi a dormire in tenda di rimanere fuori di di fare sei chilometri perché poi dal primo sottocampo magari farsi anche qualcosa da mangiare che ne so cioè era tutto sì tu organizzato perché 30 mila persone che altrimenti si fanno da mangiare sì era una bella impresa però voglio dire le docce erano comunque fuori l'aperta freddo e quindi non c'erano ecco gli agi di di un campeggio al mare al mare piuttosto esatto di un albergo in riva al lago quindi sicuramente c'erano alcuni disagi c'era una distanza che era elevata perché c'erano appunto sei chilometri dal primo sottocampo l'ultimo per dire dove si sono tenute le cerimonie e loro dovevano calcolare anche questi tempi nei spostamenti quindi è stata un'esperienza anche proprio di vita vissuta pratica in questa forma un po l'immaginario che molti hanno magari che si può avere anche dall'esterno è il nostro ragazzo medio moderno ahimè purtroppo è molto attaccato a queste cose qui no quindi anche poter vedere questa macchia di ragazzi che stanno insieme proprio dal punto di vista sociologico come dicono gli studiosi come dico io magari in modo più semplice anche nel creare gruppo credo che sia stata veramente una scossa di energia per il mondo italiano che obiettivamente stiamo vivendo anche delle difficoltà su tanti punti di vista di fatti poi parleremo anche della famosa carta del coraggio e di come hanno avuto questi ragazzi o voi assieme il coraggio di fare i sindaci e ne parleremo successivamente ma vorrei anche approfondire questa cosa come come proposta educativa no che è una proposta educativa alternativa alternativa proprio per questo che siete a tensione evolutiva i darwiniani come vi ponete nei confronti dei ragazzi attuali che molti purtroppo ha ragione sono lì su facebook quindi vivono meno l'esperienza del contatto come come potete rispondermi a questa suggestione ma so che un po magari la risposta sta in una frase storica diciamo così nello scautismo che l'escoltismo ti entra dai piedi io penso che sì nel senso che è il fare esperienza quello che ci permette di avere così tanti ragazzi all'interno dei concreto il concreto il prendere con mano delle situazioni il poter realizzare proprio concretamente magari dei piccoli dei piccoli sogni il poter pensare a raggiungere dei posti e assieme ad altri ragazzi condividerlo e riuscire a farlo questo è per noi lo scautismo lo scautismo oggi è anche un spendersi per l'altro i nostri rover e le scolte quello che hanno fatto appunto nel vedere il territorio è stato quello di spendersi per gli altri e questo quindi già formano un po la sensibilità alla solidarietà sensibilità anche all'altruismo che poi si sarà come dire di bagaglio personale anche per l'esperienza lavorativa per esempio dove bisogna imparare anche a stare assieme no si no no assieme vuol dire riuscire anche a ripartire dalle sconfitte che si possono trovare nel lavorare con con dei coetanei e capire che se l'obiettivo tante volte che ci mettiamo è molto alto perché abbiamo sbagliato delle delle votazioni 7 chilometri piuttosto che non so ipotizzano è semplice sì 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 in fin dei conti ci insegna ci fa sperimentare quali sono le nostre forze e ci fa tante volte superare i limiti che magari invece c'eravamo posti perché quello che a fianco a me li riesce a superare e questo può essere uno stimolo fondamentalmente per me è veramente fare un po un'esperienza di vita di vita reale concreta concreta di vita reale concreta e quindi che può portare anche a un'organizzazione anche molto vasta come come quella che avete messo in piedi voi e anche a portare anche dei risultati insomma perché insomma erano veramente tanti ragazzi che che avete portato verso Pisa insomma in quei giorni bene mandiamo un po di musica e poi continuiamo con anche la carta del coraggio che vediamo di cosa si tratta rimanete lì e ci vediamo dopo un po di musica dopo rieccoci a tensione evolutiva 3.0 e ricordo che se volete potete chiamare in diretta perché sopra le nostre teste c'è un numero oppure sotto potete mandare sms auguri di compleanno o anche foto se volete poi vi mandiamo in quel del lettere in diretta in tutto il Veneto se vi va vedete voi insomma come vi può piacere la cosa prima fuori onda io chiedevo una cosa a mio avviso interessante che forse potrebbe colpirci un po questa cosa come sono cambiati i ragazzi rispetto ai social network e rispetto alla comunicazione prego domanda un po piccante ma insomma da un comunicatore ci vuole beh è cambiato sostanzialmente perché se pensiamo che lo scautismo è nato nel 1907 1907 esatto il 1907 è stato il primo campo che il nostro fondatore il Lord Budden Powell ha fatto in Inghilterra e adesso voglio dire la tecnologia è completamente cambiata il bello dello scautismo è proprio legato a quella chiedere sempre al ragazzo e quindi usare quelli che sono i suoi mezzi comunicativi per riuscire ad entrare in contatto in relazione con lui e quindi è stato bello cioè il bello dello scautismo è proprio quello che ha cercato di adattarsi ai ragazzi un po' con lo stile del fratello maggiore quindi proprio un capo quindi la figura dell'educatore che cammina a suo fianco e che è al tempo stesso fratello ma anche un po' un riferimento perché ha l'indicazione diciamo di dove sapere la direzione di dove andare e quindi questa è un po' una connotazione che ha aiutato il persistere anche di questa proposta educativa nell'arco degli anni è ovvio che poi con le nuove tecnologie ci adattiamo anche noi cioè se all'inizio del novecento ti vedo sorridere all'inizio sarà stato un po' un problema però insomma no ma ancora è dibattuto in associazione perché poi il problema è sempre il quanto il mezzo di comunicazione diventa il fine poi della comunicazione quindi quella che era magari una modalità di comunicazione a inizio del novecento che una comunicazione che si svolgeva magari ancora con messaggi no cioè pensiamo siamo prima ancora della prima guerra mondiale quindi infatti c'è un altro mondo esatto messaggi in codice codice morse no e si traduce adesso in quella che è la comunicazione in sms esatto non lo so o facebook o messaggi su facebook esatto prego prego vai dai se vuoi dire qualcosa Mauro rispetto a questo ma volevo solo riprendere questa un po' della segnalazione no siccome quando ero esploratore era una di quelle cose che non mi è mai data molto a genio imparare il morse no è così no mi sorrido però è veramente un po' l'evoluzione di quello che è fare l'educazione oggi perché se prima il comunicare era sbracciarsi con delle bandierine o suonare un fischietto oggi è capire i ragazzi qual è la potenzialità che hanno in mano nella rete e stare attenti quale potrebbe essere invece il pericolo quindi anche i capi devono un po' aiutare i ragazzi in questa esplorazione infatti un'altra suggestione che prima mi veniva insomma anche ascoltandovi e anche fuori onda era un po' questa alle volte c'è l'immaginario collettivo e anche rispettabile che un ragazzo che entra nel mondo dello scout debba avere giustamente anche dei ripari debba anche avere, come dire, il genitore vuole avere delle sicurezze voi riscontrate che ci sia ancora questo atteggiamento nei confronti del mondo dello scoutismo cioè magari il genitore è un po' prevenuto perché magari il ragazzino, chi lo sa, va a farsi un giro e si fa mai detta proprio in modo che ci capiamo oppure vedete che c'è anche molta più fiducia rispetto ad anni fa oppure vedete anche un ritorno alla chiusura rispetto al vostro mondo e alla vostra proposta educativa so che è una domandona guarda, la fiducia tra capo e genitore è fondamentale in un rapporto di educazione quindi questa deve esserci certo che come capi abbiamo dovuto fare dei passi avanti su questo sempre di più formandoci come persone anche alla sicurezza prima mi parlavi della protezione civile anche vostra sì, purtroppo nelle varie tragedie che questo paese ha vissuto lo scoutismo ha avuto una parte importante in questo ricordiamo l'Aquila, ricordiamo il terremoto dell'Emilia qualche anno fa abbiamo veramente speso energie anche credo a Genova ultimamente per quel poco che si è visto dove è stata attivata la protezione civile nazionale noi c'eravamo qui a Vicenza qualche anno fa insomma a Spalarfango sono venuti in scout un po' da tutto il Veneto anche a Padova e questo ci porta a fare le cose facendole bene ecco, quello è quello che ci teniamo e quindi a formare i capi e a formare i ragazzi nelle operazioni che andiamo a fare quello della sicurezza durante le attività lo teniamo da conto sempre anche quando facciamo semplicemente le riunioni all'interno delle nostre sedi insomma non solo quando usciamo nei boschi e poi sempre lo scoutismo ci insegna che non esiste buono e cattivo tempo ma esiste un buono e un cattivo equipaggiamento quindi insomma abbiamo imparato che in montagna non si va con i calzoni corti ma che invece è meglio andarci con le bracche tecniche insomma perché ci sono delle situazioni che sicuramente l'attrezzatura è una sicurezza è una sicurezza quindi diciamo curate molto l'aspetto anche della sicurezza giustamente perché poi giustamente anche penso un genitore voglia sapere, voglia capire, voglia intuire anche che obiettivamente e dico così anche a prodomo vostra che da quello che si sente in giro insomma almeno in Veneto avete grossa affidabilità e quindi anche grosso immagine da questo punto di vista poi semmai c'è sempre un po' una distorsione su cosa è un po' pericoloso e la gente a casa lo sa che io ci noto un po' da comico delle distorsioni perché diciamo che è pericolosa una cosa e poi magari lasciamo tra virgolette i nostri figli su Facebook e non sappiamo magari neanche cosa c'è insomma quindi potremmo fare magari un giorno una discussione su questo perché ci sono un po' queste distorsioni anche sulla che cosa è la privacy in questo paese è un po' una forma aleatoria è anche un po' ideale volevo sentire anche te su questo argomento cioè sull'argomento sicurezza come vi siete mossi negli ultimi anni avete giustamente formato anche i capi non so vuoi dire la tua rispetto a questo? allora beh di sicuro c'è un timore da parte delle famiglie che è giusto insomma perché ovvio magari i ragazzi se io penso quando ho iniziato io a vivere questa esperienza cioè tranquillamente noi ci trovavamo ogni sera in strada macchine o non macchine ci si spostava si giocava il pallone ma voglio dire eravamo in mezzo al pericolo oggi la società col pallone finestre rotte parecchie no 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 impossibile io lo dico qua lo ammetto tanto mi conoscono più ginocchia sbucciate più ginocchia sbucciate bicicletta casca partera e quindi voglio dire magari un tempo eravamo più incoscienti anche nell'affrontare le difficoltà oggi la società ci mette di fronte e non ci risparmia mai su quelle che sono anche i pericoli esatto quelli che sono i pericoli i rischi che corriamo e quindi per questo c'è un po' anche un'attenzione da parte nostra di aiutare i capi a crescere sia su quello che è il rischio fisico quindi voglio dire nel camminare in montagna ma anche quello che è il rischio pedagogico quindi nella come sei insegnante esatto nell'educare i ragazzi c'è questa attenzione anche a entrare il più possibile in comunicazione con loro perché tante volte fanno fatica magari anche a manifestare quello che vivono e quindi è un po' lo scautismo si adatta c'è la paura da parte delle famiglie c'è è ovvio che magari un tempo erano molto più abituati anche ad andare fuori casa adesso lasciare un bambino di otto anni che vive una settimana con lo zainetto una settimana fuori una settimana da solo ci sono dei timori ma noi chiediamo alle famiglie ecco questo atteggiamento di fiducia nei nostri confronti gli presentiamo sicuramente per trasparenza quella che è la nostra proposta quindi quello che è il nostro metodo educativo cioè quello che noi usiamo per far crescere i loro ragazzi per far vivere loro questa esperienza però poi ecco a loro sta il darci questa fiducia e credere in questa esperienza o no liberi poi vogliono ognuno di fare quello che si sente anche le proprie scelte e anche i propri vissuti un'altra cosa che colpisce molto colpisce anche a me così dall'esterno del mondo dello scautismo è che scusate che quasi sempre poi i ragazzi vengono educati con una forma mentis che la noti cioè noti subito da distante la persona che è venuta fuori tra virgolette da quel tipo di formazione e io la noto così dalla anche dalla praticità alle volte no? anche nel lavoro vedi subito la persona che ha vissuto un certo tipo di percorso rispetto ad anni fa credo anche comunque il mondo dello scautismo abbia un po' tra virgolette subito la detta denatalità insomma che c'è in Italia in questo momento perché siamo a zero da parecchi anni e purtroppo questo è un problema che andrebbe sviscerato ma anche concretizzato perché stiamo diventando un paese vecchio purtroppo ed è così ma entrando nel nostro merito come cercate di rispondere voi nel vostro concreto nel vostro quotidiano a queste domande da parte delle famiglie da parte della società e poi arriviamo alla carta del coraggio rispetto a queste problematiche nuove tipo problematica dell'integrazione che a Padova e molti lo sanno cosa è capitato si sono trovati con una classe tutti tra virgolette extracomunitari che poi invece sono italiani come associazione come potete rispondere a queste nuove forme di vita cioè a queste nuove forme di integrazione sociale come state rispondendo perché penso che anche all'interno dell'associazione insomma ne abbiate parlato e come state cercando di rispondere a questo so che anche qui apro una finestra molto vasta e purtroppo anzi per fortuna la trasmissione poi anche della musica e quindi però volevo sentire un po' voi rispetto anche alle problematiche di tensione sociale che si sta creando anche la mancanza di lavoro ci mancano i figli non so ci sono certe modalità di pensiero un po' più chiuse ecco dai diciamola così come state cercate di rispondere di fronte a queste nuove problematiche ripeto so che è un argomento vastissimo quindi secondo me queste problematiche si acquiscono nel momento in cui il ragazzo rimane chiuso nella sua stanzetta e la finestra nel mondo è solo il suo videogioco è solo il suo spara e uccidi e salta e invece secondo me è quella dinamica che si supera nello stare assieme nel capire che nell'altra persona posso trovare anche delle cose che mi piacciono o delle cose che non mi piacciono anche e questo bisogna uscire da quella stanza insomma da giocare da mangiare assieme da capire che non tutti hanno gli stessi gusti però questo non si comporta di portarsi a conflitto esatto di vivere bene lo stesso assieme e questo farlo sperimentare ai ragazzi non farglielo leggere sui libri ma portarlo a far questo insomma è come se voi riusciste a mandare il messaggio facendo facendo nel concreto nel concreto ovvio che sicuramente avrete i vostri valori ma state rispondendo diciamo a queste nuove problematiche di chiusura con invece proponendo un'alternativa credo prego è un po' lo spirito dell'accoglienza quindi questa attenzione nei confronti dell'altro proprio come persona prima di tutto e il bello è proprio il percorso che hanno fatto i nostri ragazzi quindi i nostri rover e le nostre scolte quindi quella fascia d'età che ha vissuto questa esperienza a San Rossore in cui prima di arrivare là si sono interrogati rispetto a quello che il loro territorio offriva quindi ci sono stati dei gruppi di ragazzi che noi chiamiamo clan che hanno visto magari nel loro territorio l'esigenza di non so di creare degli strumenti a sostegno degli immigrati perché imparino la lingua italiana perché siano assistiti al pomeriggio durante i compiti e quindi questa è stata proprio la loro azione di coraggio cioè quindi quella scelta consapevole di guardare il territorio e di offrire un cambiamento e in questo senso è stata molto politica la ruta nazionale infatti politica nel senso tucur della parola esatto non politica destra sinistra centro esatto ha proprio cercato di andare ad agire per la tutela diciamo del bene comune bellissimo bello bello adesso mandiamo un po' di musica e poi parliamo ancora meglio della carta del coraggio che mi piace molto vi aspetto dopo attenzione evolutiva 3.0 mi vedete sorridente perché ogni canzone ogni musica poi si sorride e il nostro regista capita ogni 3 secondi a chiedere insomma Stefano lo ringraziamo sempre perché è una persona eccezionale molto umile ma conosce il mondo pensate che ha seguito anche personaggi di alto livello Fiorello Fabio Volo e anche Garavello quindi ecco adesso sta sfumando apposta per prendermi in giro ma noi lo ringraziamo sempre e ci accompagnerà anche sul canale 14 e quindi continueremo con tensione evolutiva 3.0 veniamo a noi carta del coraggio ci volete un po' parlare di questa a mio avviso bellissima iniziativa che ha molto colpito che sta colpendo io poi sono anche impegnato a una protezione civile quindi insomma mi ha colpito quello che stavate dicendo prima prego che cos'è intanto e cosa si tratta? la carta del coraggio è un documento che hanno scritto proprio i ragazzi i nostri rover e le nostre scolte quindi i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza San Rossore partendo proprio da quello che hanno visto nel territorio quindi loro è proprio stato un lavoro di osservazione della loro realtà in cui vivono di analisi di capire che cosa poteva servire che cosa potevano fare loro e lo step successivo è stato ok noi ci impegniamo a fare questo però ci serve anche che la politica quindi l'amministrazione quindi lo Stato ci garantisca anche la possibilità di farlo e quindi è stato un ci impegniamo e un chiediamo ed è stato bello proprio questo passaggio questo percorso si hanno un po' osservato di che cosa c'era veramente bisogno nel territorio esatto e lì hanno chiesto ovviamente allo Stato quindi alle amministrazioni e alla Chiesa all'associazione stessa quelle che per loro sono le esigenze del momento molto bello perché fatto anche da ragazzi credo che possa essergli utile perché poi un giorno lo spirito di osservazione lo spirito anche di capire quali possono essere le aree possa servire anche per una vita un po' insomma da adulti ecco di formazione poi di famiglia ok insomma ripende poi anche dalle loro scelte dalle loro idee come si sta sviluppando adesso questo tipo di iniziativa in questi giorni si è un po' sviluppata si sta sviluppando poi so che molti si sono presentati dai sindaci anche si sono presentati dai sindaci perché terrorizzati dai ragazzi beh sicuro qualcuno si veramente te lo dico per esperienza perché sono uno di quelli vabbè prego prima della ruta abbiamo vissuto assieme io e Barbara un evento nella zona di Castelfranco dove i clan di quella zona hanno presentato i loro i loro lavori le loro azioni di coraggio ai propri sindaci beh veramente sono stati bravi perché hanno messo in crisi questi questi nostri amministratori però hanno delle idee fantastiche pro domo pro domo anche sindaci adesso io ho una piccola esperienza è veramente difficile fare sindaco è veramente difficile quindi io pensavo proprio nel coraggio anche di questi ragazzi che hanno avuto nell'esporsi per esempio cioè di cercare un tipo di democrazia senza la protesta ma con la proposta giusto? ho intrapreso bene nel discorso e quindi come si sta sviluppando un po' questa bellissima iniziativa a mio avviso molto partecipativa molto democratica ma non di protesta ma di proposta prego difatti di proposta concreta quello che chiedono è di poter realizzare e di poter avere più attenzioni in alcuni in alcuni ambiti nell'ambito del sociale della della cura dell'immigrato anche solo dei nostri anziani pensati che un clan appunto della zona di Vittorio Veneto aveva proposto quello di istituire un po' un forno come si faceva tanti anni fa dove trovarci cucinare il pane assieme bellissimo non tanto perché c'è bisogno di fare il pane però questo è un veicolo anche per stare assieme per stare assieme quindi la cucina anche esatto per scambiarci delle ricette per riuscire a scambiare quelle quattro parole che possono veramente alliveliare la vita di tantissime persone anche in solitudine che si parla sempre dei bisogni economici che per purtroppo stanno un po' ritornando alcuni e si vedevano i dati in questi giorni ma uno dei problemi tra virgolette di comunicazione che non se ne parla mai è proprio la solitudine quindi anche questi ragazzi che si mettono assieme che fanno qualcosa insieme che si prodigano per boh anche organizzare la ruta nazionale per fare un cammino insieme o anche delle proposte di sindaci a mio avviso è una cosa molto molto bella che vi dà atto insomma che al di là poi delle come dire di quelle che possono essere poveretti anche i poveri sindaci che si trovano anche a gestire questi ragazzi che magari hanno mille proposte poi magari anche loro si trovano un po' in difficoltà da questo punto di vista e quindi anche capibile insomma per certi versi quali sono le future iniziative che state pensando di mettere in atto se ne avete oppure quali sono quelle cose che in questo momento avete a cuore come associazione di riportare avanti nel territorio veneto e poi diciamo anche dove vi possono trovare insomma ecco beh di sicuro sì di continuare l'attività esatto nel senso che l'educare già i singoli ragazzi è già una bella una bella sfida di sicuro ecco i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza quindi quelli più grandi saranno chiamati a continuare quindi a declinare quella che è stata questo documento loro la carta del coraggio in quello che è il loro territorio quindi un partire dal proprio territorio andare al nazionale e ritornare nella loro realtà e noi a livello proprio di associazione quindi anche riguardo alle proposte per le altre fasce d'età ci stiamo interrogando in questi anni proprio sul vivere la speranza perché in questo momento come sembra tutto un po' siamo tutti presi dello sconforto e vogliamo vedere ecco quel 5% di buono che il nostro fondatore diceva che c'è in ogni realtà in ogni persona molto vivo e molto interessante esatto e quest'anno noi stiamo cercando di affrontare il tema della famiglia un po' mossi anche dal sinodo che è stato proposto ma vogliamo capire un po' anche come poter essere di supporto alle famiglie dei nostri ragazzi nell'azione educativa nei loro confronti molto molto bella questa cosa sulla speranza magari l'anno prossimo quando saremo nel quel del 14 e lo ricordo che Tessione Evolutiva andrà sul canale 14 il mercoledì dalle 17 alle 18 il venerdì dalle 17 alle 18 magari lo tratteremo perché io a mio avviso è un tema molto molto importante che poi come penso abbiano capito a casa poi non è solo una parola quella che state facendo ma sono azioni concrete e questo è quello che conta dove vi possono trovare so che gli scout e la Gesci sono diffusi in tutto il Veneto ma dove vi possono trovare a Vicenza in che zone vi possono trovare vi possono contattare prego ma guarda gli scout in Veneto sono 23.000 quindi insomma ci facciamo ci facciamo ci facciamo vedere noi abbiamo una sede regionale che è a Padova in via Foft ecco perché eventualmente lì si possono attingere varie informazioni avete un sito internet credo c'è anche il nostro sito internet abbiamo anche un account Facebook benissimo e quindi i canali per trovarci sono veramente ci sono basta cliccare siamo nascosti non sicuramente dove vi possono trovare su Facebook beh su Facebook abbiamo una pagina che è a Gesci Veneto a Gesci Veneto esatto ok benissimo e così www.agesciveneto.it è anche il nostro sito sito internet account Twitter sempre a Gesci Veneto quindi voglio dire il nome rimane abbastanza impresso per trovarlo dappertutto per trovarlo dappertutto una cosa molto interessante prima di chiudere e poi chiudiamo e siamo un po' oltre e lasciamo un messaggio anche alle persone a casa che gli scout la Gesci si presentano sempre in due uomo e donna mi volete spiegare in tre secondi sta parola Gesci come è nata? proprio insieme in chiusura è un po' lunghetta io la so la storia perché mi sono aggiornato però guarda nasce dalla fusione di Asci e Aji che erano le due associazioni una maschile e una femminile perché i tempi no e pensi di nasce proprio perché i clan di allora e le scolte di allora avevano deciso che stare separati non era più più conveniente non era più conveniente il futuro invece chiedeva che che punto le sensibilità di uomini e donne avrebbero potuto creare un futuro migliore per questo nostro paese insomma bellissimo bellissimo bellissima iniziativa li salutiamo e come consueto io chiedo chi volete salutare chi avete a cuore di salutare in questo momento 23.000 scout che ci ascolteranno che ci ascoltano ma chi volete salutare in particolare Baden Powell magari però lo salutiamo ok prego chi vuoi salutare ma direi tutti i capi dell'associazione che nel silenzio e insomma con grande sacrificio ogni giorno si inventano qualcosa per stare assieme ai ragazzi per capire quali sono i messaggi che lanciano io vorrei veramente salutare di cuore tutte queste comunità capi benissimo chi vuoi salutare invece l'attenzione andrebbe alle famiglie cioè le famiglie che si fidano di noi e che ci affidano il loro bene più prezioso che sono i loro ragazzi i loro figli e quindi un saluto va a loro e un ringraziamento anche per la fiducia che continuano a rinnovarci molto molto bene avete sentito i saluti di oggi pomeriggio che anch'io mando appunto a tutta l'associazione e se volete appunto trovare trovate tutto su internet a Gesci Veneto trovate anche la pagina Facebook io vi saluto di cuore grazie di essere stati qui in questa trasmissione anche divertente ma anche con dei contenuti e ricordo che potete ritrovare anche il video anche su YouTube ormai siamo come dire anche noi socializzati la tensione evolutiva 3.0 bene vi saluto è stato un bel pomeriggio rimanete con noi anche con i prossimi programmi e col mio ancora pochi giorni sul 295 e poi a gennaio ripartiremo sul canale 14 sempre con la solita verve e con personaggi molto innovativi e anche con idee diverse dal comune vi saluto buon pomeriggio un caro saluto buon sabato buona domenica ciao ciao ciao